Disegni una capriata in legno in pianta o nel 3D Scegli la sezione e il modello di capriata Agganci la capriata al cursore Scegli il punto di aggancio Ruoti la capriata Agganci il primo punto della capriata ad un oggetto Definisci l'allineamento Definisci le dimensioni della capriata Definisci la capriata anche con la modifica delle sue proprietà Grazie a tutti Grazie a tutti